Incremento di tamponi in farmacia, soprattutto nel fine settimana e lunedì per recarsi al lavoro, a precisarlo il dottor Fabrizio Zenobi, presidente a Federfarma Pescara, nonché farmacista. Dopo il 15 ottobre, da quando il Green Pass è diventato obbligatorio nei luoghi di lavoro, anche in Abruzzo si è registrato un aumento nelle farmacie dei tamponi antigenici. La maggior parte di chi si sottopone a tampone fa parte di quella fetta di no-vax che non vuole vaccinarsi. Durante la settimana capita magari il bambino che ha avuto qualche sintomo influenzale, quindi per chiarire se ci fosse chiaramente un'infezione da Covid o se si tratta semplicemente di una banale influenza, viene richiesto spesso il tampone, ma direi che se dovessimo andare a fare una divisione percentuale tra chi ha necessità per esigenze di viaggio, la minoranza, questi signori, queste persone che hanno necessità invece di chiarire una sintomatologia in atto e chi magari invece impiega il tampone come sostitutivo del vaccino per poter accedere ai posti di lavoro, direi che questi ultimi sono una fetta sicuramente percentualmente di maggioranza. Fondamentalmente chi preferisce fare un tampone ogni 48 ore sono quelli che non vogliono vaccinarsi. Ovviamente dal punto di vista di professionista sanitario io sono assolutamente a favore della vaccinazione, quindi sarebbe opportuno incentivare sempre di più invece il ricorso al vaccino come unica arma che abbiamo per combattere una pandemia di questo tipo. In medio una farmacia quanti tamponi fa al giorno? Ma guardi, mediamente a livello nazionale si parla di dai 30 ai 40 tamponi al giorno, poi ci sono quelli che sono più organizzati, che hanno messo magari più persone al servizio, che riescono a farne di più, ma molto dipende anche dalle grandi città. Dopo il 15 c'è stato un incremento? Sì, forse c'è stato un po' più di richieste ai primi giorni, un po' più di richieste ai primi giorni, così come c'è stato un incremento di richieste di vaccinazioni. Ecco perché diciamo che accanto ai tamponi voi fate anche le vaccinazioni? Sì, sì, noi facciamo anche vaccinazioni, tutte le farmacie che hanno detto il protocollo stanno anche vaccinando. Per fare il tampone occorre la prenotazione? Per fare il tampone occorre sempre la prenotazione, questo è parte del protocollo, quindi bisogna prenotare precedentemente. Che cosa le dicono i Novax e gli irriducibili? Perché non vogliono farsi il vaccino? Di tutto, di più, dalla paura che uno cerca anche di sconfiggere, di far comprendere. Io dico sempre a tutti, signori, se c'è un vaccino che è stato fatto in un numero così elevato di persone, nell'arco di un anno, abbiamo vaccinato forse 3 milioni di e mezzo di persone nel mondo, nell'arco di un anno col vaccino del Covid, studiatissimo, è questo, insomma, nessun altro vaccino ha avuto una capacità di essere studiato nell'unità di tempo così elevata. Poi però ci sono quelli che non vogliono per motivi, diciamo, di pregiudizio, assolutamente di pregiudizio. Io non mi voglio vaccinare, non mi voglio, chissà che cosa c'è dentro. Al chissà che cosa c'è dentro io ho difficoltà a rispondere, sinceramente, perché è tutto dichiarato, è tutto studiato. Ma sicuramente quelli che decidono di non vaccinarsi vengono con la convinzione che tanto io non mi ammalo, cioè questa è la presunzione. Tanto io non mi ammalo, io ho sempre detto, signori, voi siete fortunati, perché forse non vi è capitato di lasciare un parente sopra l'ambulanza e non sapere che fine fare, se lo rivedete o non rivedete. Intanto si fa più vicino l'accordo per somministrare in farmacia non solo il vaccino anti-Covid, ma anche quello anti-influenzale. Io non mi ringrazio. Grazie a tutti